Il 26 luglio, presso la chiesetta di Sant'Anna Uppega, si è svolta la tradizionale festa patronale alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia, coadiuvato dai parroci della zona e dal presidente della Proloco, Mario Zintilini. Il corteo, seguito da un considerevole numero di fedeli e dalle autorità, si è snodato lungo le vie del centro storico, mentre la banda città di Alassio eseguiva motivi di intonazione religiosa. Il grazioso centro dell'Alta Valtanaro ha vissuto l'importante manifestazione di valore religioso con una partecipazione esemplare. Al termine della cerimonia, dopo le parole di elogio e di commiato del Vescovo, i presenti sono stati allietati dalle note gioiose della banda.